ecco sono foto bellissime ma giuzza mia ma sono stata all'altezza ma si te l'ho detto sono meraviglioso non immaginavo che oltre ad essere una buona fotografa potessi essere una buona modella ma che dici scena ma si guarda sei molto naturale a questo rendere foto ancora più belle e poi guarda si vedono tutte le emozioni dei tuoi occhi sono foto bellissime anche se dovrò tenerle nascoste tutta la vita vediamo queste foto e le emozioni degli occhi di Carmela poi guarda si vedono tutte le emozioni trasparire infatti sono curioso di vedere questi occhi bellissime, blu ieri mi chiedevano sul set vi baciate? ho detto io ancora no vi baciate veramente? noi si sarò guarda però fai un video anche a me guarda però fai un video anche a me guarda che conto è comunque se non potrebbe piacere ultima se facciamo questa qua li abbiamo tutti a testa già è conto siamo un odore allora state comodi un po' di una fila al posto state silenzio un video ho fatto e azione ecco sono foto bellissime per noi è venuta abbastanza cosa? questa Maria cioè ma il bacio non viene se vedete l'inizio del bacio no dai ragazzi voglio fare un altro campo a lui no voglio fare un'invaldura più poetica del bacio fagli provare soltanto il bacio ora continuo sempre fino a quando non gli esce bene figlio metteteci passione pensa al tuo ragazzo e tu pensa alla tua ragazza tu pensa a Carmelo pensa a melofarini lui è più dolce no melofarini con quella barbetta è solo da cocco ma si è dato la di tanta oggi si mette lo metti così a farti i creativi si è dato la di tanta oggi melofarini a Cambria allora quindi Petrica non capì che è facile spacco travaggia Petrica io non ho fatto i capelli se non do e come mai spacco non c'ha aggiunto a sto set ma la vuole non fare che questi anni si questo è il regista del rompicoglione si ammazzano di lavoro presso questo set mi fanno fare certe belle figure come per su e che sa significare io sogno Sara Sara passatella passatella ragazzi poesia poesia abbiamo finito dalle battute audio smonto motore motore no da me non c'è motore partito partito io dico motore si partito da dove stiamo facendo solo in base grazie azione grazie grazie farglielo vedere tu Carmelo come baciare ad Alessio no ad Alessio deve baciare vai grazie posso fare invece di stare termo così che abbraccia Moshe posso mettere così a Alessio esatto vi sistemate un attimino cercate di vi venite incontro anche perché così vi sto respirando perché siete uno cioè cercate di renderla un po' più meno starica che passione cerchi il contatto Alessio cerchi il contatto lei è che rischio a termo è che se Alessio cerchi il contatto spara è che nella due secondi in più sei giusta stop abbiamo fatto 7000 senza braccio quindi solamente i bracci siamo a male cerca di farla che ti sposti il busto non è la testa non è tutta la testa la testa la tenere dritta dai una fatela chiusa ci stava la ventola quella meravigliosa che c'era il tiratore è che vola si crea il panico vola almeno i capelli non gli vanno davanti siamo ancora vivi e attivi come i fermenti lattici alza un po' il culo tu alza nel senso che devo stare no 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 io mi troppo trascinando verso il basso e vedevo poi ti sforzare dai forte ci siamo facciamo no forse ho uno staccato qua guarda 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 si si sindimido e azione no no fai meglio so io no dai Fede, come mai l'hai montato con una mano dietro, all'inizio che accarezza, di quei classici? No, non pare, se non ce la monta la pace. Andiamo. Oh! Fammi pensare. Fede che c'è la lucetta della disca accesa. Che è un modo fisicamente possibile per la quale voi dopo il faccio di scomparire dall'inquadratura? Sì, che ci inchiami su un lato e che lei inchiami pure mia dall'auto. Così stretta non c'è il modo. Oppure facciamo tipo la scivolata. Così stretta è più facile. E tu mi vieni incontro alzando la telecamera. No, non si può fare. Vabbè, andiamo usciti. Vabbè, allora... Basta. Finish. Guarda. Sì, sì, riposate. Ora devi servire il padre di Carmela. Eccolo. Eccolo. Che cazzo stai facendo? Brutta crozza. Bottana. Oh, non è carichetta mia figlia. Te l'hai tagliata ora. Come dire, chiedi con un franza sintetiano. Maria! Vedete il regista come si diletta preparare la scena. Quando c'era, secondo Dio, gli pavano per la parola di Giove. Quando c'è Dio che racconta, cerca di chiamare Noè. Alessio che... I suoi racconti. Noè. Oddio! I racconti di Alessio. Grande cabarettista e... E animatore. E soprattutto... Spogliarellista. Spogliarellista modello. Tra l'altro, ragazzi, ho delle mutandes. Vedi come li portano. Live Federico Maio. Ok. E con questa un saluto. Festoso a tutti. Saluto. E con questa un saluto.